20 anni dopo, Matrix ci chiede ancora una volta di prendere una decisione finale. Preferiresti continuare a vivere comodamente all'interno di Matrix oppure svegliarti in una nuova terrificante realtà? Beh, tieniti forte. Questo computer ora controlla la tua vita, fino all'ultimo dettaglio. Cosa succederebbe se il mondo che conosci fosse solo una simulazione? Potresti fare affidamento sui tuoi sensi? Riusciresti a trovare delle anomalie nel programma? E se questa fosse davvero una simulazione, chi è a capo del programma? Questo è Cosa succederebbe se vivessi all'interno di Matrix. In questo mondo non ci sarebbe alcun nio a salvarti e nessuno ti offrirebbe una pillola per svegliarti. Malgrado ciò, gli architetti che avrebbero concepito tutto quanto potrebbero aver lasciato qualche indizio per aiutarti a risolvere questo mistero. Potresti non essere tu il prescelto, ma se ti affidassi al tuo ingegno e al tuo istinto, forse saresti in grado di superare in astuzia questo supercomputer onnisciente. Ma se tutti coloro che conosci sono in realtà fatti di pixel, potrebbe ciò significare che tu sia solo una figura all'interno della simulazione di qualcun altro? In questa acclamata serie di film di fantascienza, le macchine controllano ogni aspetto della vita degli uomini nel mondo digitale in cui sono intrappolati. Immagina di essere bloccato all'interno di un videogioco e di non essere nemmeno un giocatore. Questa, amici miei, è la teoria della simulazione. La teoria della simulazione afferma che tutto ciò che abbiamo e che sperimentiamo siano il risultato di un programma informatico altamente avanzato e che tutti i sensi e le nostre percezioni non siano altro che esperienze digitali ideate per simulare la vita reale. È ancora più terrificante il fatto che alcuni scienziati abbiano suggerito che esista un 50% di possibilità che noi tutti stessimo davvero vivendo in una simulazione in questo momento. Detto ciò, quanto grande dovrebbe essere un supercomputer per riuscire a simulare questo universo artificiale? Torneremo su questo punto più tardi. Adesso dobbiamo prima stabilire se questo mondo sia reale o meno. Allora, cominciamo col dire che questo mondo digitale non sarebbe perfetto. Per primo, richiederebbe degli aggiornamenti di tanto in tanto. Durante questi potresti essere in grado di notare dei cambiamenti nel mondo naturale che non avrebbero senso in circostanze diverse. Potresti per esempio testare la velocità della luce. Ma come lo faresti? Beh, dovresti prima creare un'altra simulazione all'interno di questa. Accidenti, ma da quanti livelli è composto questo mondo? Se riuscissi ad osservare come le particelle di luce si muovono nel tuo mondo computerizzato, potresti confrontare quella velocità con quella della vita reale. Cioè, la vita reale che conosci, ovviamente, potrebbe sembrare un po' estremo, ma queste informazioni potrebbero rivelare una verità spaventosa. Se questo mondo fosse davvero un falso, che dire delle persone intorno a te? Nella trilogia originale di Matrix, un piccolo gruppo di esseri umani lasciò la simulazione e guidò una ribellione contro i loro padroni robotici. Tuttavia, le persone all'interno della tua simulazione potrebbero non essere affatto reali. Quindi, se cercassi di uscire da questa realtà, dovresti prima diventare amico dell'IA che vive qui. Iniziare profondi discorsi sulla natura della realtà con questi esseri simulati potrebbe portarli a riflettere sulla propria coscienza e su cosa significhi essere reali. Farsi un amico virtuale potrebbe essere la tua migliore opzione di fuga. Tornando alla serie, qui i corpi umani venivano tenuti in vita in masche piene di un liquido viscoso, con tubi che uscivano dalle loro gole. Il tutto per alimentare il Matrix. Se tu vivessi in una simulazione, anche il tuo corpo nel mondo reale potrebbe essere rinchiuso in una specie di incubatrice. Ma se i tuoi nuovi amici artificiali trovassero un modo per trasferire la tua coscienza all'interno di una macchina, potresti allora iniziare una nuova vita come robot. Forse in questo modo potresti riuscire ad incontrare chi si nasconde dietro a questo folle progetto. Alcune teorie suggeriscono che i creatori della simulazione puniscano coloro che vi siano intrappolati, facendo vivere ai criminali le loro vite virtuali, nella paura e nel dolore. Altri teorici si chiedono se la simulazione sia solo un gioco per un alieno adolescente che stia passando il tempo giocando con un software che gestisce le nostre vite. Se ciò si rivelasse vero, potrebbe significare che non sei nemmeno una persona reale, ma solo un prodotto dell'immaginazione di qualcun altro. Prova a giocare di nuovo a The Sims adesso, ma come sarebbe possibile tutto questo? Un filosofo di Oxford ha suggerito che per eseguire una simulazione del genere ci vorrebbe un supercomputer delle dimensioni di un intero pianeta. Ogni emozione, memoria e paesaggio sarebbe solo un altro frammento di dati all'interno di questo mondo, dentro ad un altro mondo. E mentre Neo e i suoi amici riuscirono ad uscire da quella simulazione, c'è sempre la possibilità di svegliarsi in un'altra simulazione che si trovi all'interno di questa e andare ancora più in profondità nella tana di questo bianconiglio digitale. Ma cosa succederebbe se, invece di un mondo fittizio, creassimo un essere artificiale al di fuori del nostro controllo? Cosa accadrebbe se creassimo una superintelligenza? Non abbiamo imparato nulla, vedo. Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se… Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale, per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di Cosa succederebbe se…